Piper. La mattina dopo, Piper si svegliò al suono di una sirena diversa da quella della nave. Un richiamo così forte che la scaraventò letteralmente giù dal letto. Si domandò se fosse l'ennesimo scherzo di Leo, ma la sirena rimbombò di nuovo. Sembrava provenire da diverse centinaia di metri di distanza da un'altra imbarcazione. Piper si vestì di corsa. Quando arrivò sul ponte, gli altri erano già lì. Si erano tutti vestiti in fretta e furia tranne Edge, che aveva fatto il turno di guardia notturno. Frank indossava la maglietta delle Olimpiadi Invernali di Vancouver, al rovescio. Percy portava i pantaloni del pigiama e un pettorale di bronzo. Un vero tocco di stile. Hazel aveva i capelli tutti schiacciati su un lato, come se fosse stata travolta da un ciclone. Leo si era dato fuoco per sbaglio. Aveva la maglietta bruciacchiata e le braccia fumanti. A un centinaio di metri a babordo stava passando un'enorme nave da crociera. I turisti salutavano i semidei dai balconi delle cabine distribuite su quindici piani. Qualcuno sorrideva e scattava fotografie. Nessuno di loro appariva sorpreso di vedere un'antica trireme greca. Forse la foschia gliela faceva sembrare una barca da pesca, o forse pensavano che Largo 2 fosse un'attrazione turistica. La nave da crociera suonò di nuovo la sirena e Largo 2 fu scossa da un fremito. Edge si tappò le orecchie. «Devono per forza fare tutto questo baccano? Ci stanno solo salutando!» Osservò Frank. «Che cosa?» Gridò Edge. La nave da crociera li superò, dirigendosi in mare aperto. I turisti continuarono a salutare. Se trovavano strano che Largo 2 fosse popolata da ragazzi mezzo addormentati in pigiama e armatura e da un uomo con le zampe da capra, non lo diedero a vedere. «Ciao!» gridò Leo, sollevando una mano fumante. «Posso azionare la balista?» domandò Edge. «No!» rispose il figlio di Efesto con un sorriso forzato. «Dove siamo?» Hazel si stropicciò gli occhi e guardò l'acqua verde scintillante. «Oh, wow!» Piper seguì la direzione del suo sguardo e rimase sterrefatta. Senza la nave da crociera a bloccare la visuale, scorse una montagna che spuntava dal mare a meno di un chilometro di distanza. Piper aveva già visto scogliere e strapiombi impressionanti. Aveva viaggiato sulla Highway 1 lungo la costa della California, per non parlare del tuffo nel Grand Canyon insieme a Jason, con tanto di ritorno in volo. Ma non aveva mai visto niente di paragonabile a quell'enorme pugno di accecante pietra bianca che si protendeva verso il cielo. Da un lato, le scogliere di pietra calcarea piombavano quasi a picco sul mare e si inabissavano più di 300 metri di profondità. Dall'altro, la montagna scendeva a gradoni, ricoperti di foresta verdeggiante. Piper pensò che la montagna somigliasse a una sfinge colossale, corrosa dai millenni, con la testa e il petto bianchi, e un mantello verde sulle spalle. «La rocca di Gibilterra!» esclamò Annabeth sgomenta. «All'estremità della Spagna!» «E laggiù!» indicò a sud, verso una distesa di colline rosse e ocre in lontananza. «Quella deve essere l'Africa! Siamo all'imbocco del Mediterraneo!» Era una mattinata calda, ma Piper rabbrividì. Nonostante l'ampia striscia di mare che si stendeva davanti a loro, ebbe la sensazione di trovarsi di fronte a una barriera invalicabile. Una volta entrati nel Mediterraneo, il mare Nostrum sarebbero stati nelle antiche terre. Se le leggende erano vere, la loro impresa sarebbe diventata dieci volte più pericolosa. «E adesso?» domandò. «Entriamo e basta?» «Perché no?» replicò Leo. «Le barche entrano ed escono in continuazione. Sì, ma non sono trireme piene di semidei?» pensò Piper. Annabeth fissò la rocca di Gibraltar. Piper conosceva quell'espressione pensierosa sul viso dell'amica. Significava quasi sempre che percepiva guai in arrivo. «Nell'antichità chiamavano questa zona Colunni d'Ercole», disse la figlia di Atena. La rocca era ritenuta una delle colonne. L'altra era una delle montagne africane. Nessuno sa di preciso quale. «Ercole, eh?» Percy aggrottò la fronte. «Questo tizio è una specie di McDonald's dell'antica Grecia. Ovunque ti giri, spunta fuori.» Un fragoroso boom fece tremare il Largo 2, ma stavolta Piper non capì da dove provenisse. Non vide nessun'altra nave, e il cielo era limpido. «Queste colonne d'Ercole sono pericolose?» Annabeth non distorse lo sguardo dalle scogliere bianche, come se si aspettasse di vedere sfolgorare all'improvviso il marchio di Atena. Per i greci, le colonne d'Ercole segnavano il confine del mondo conosciuto. I romani sostenevano che sulle colonne ci fosse un motto in latino. «Non plus ultra», disse Percy. Annabeth rimase strabiliata. «Esatto, non più oltre. Come fai a saperlo?» Percy indicò qualcosa. «Perché lo sto leggendo.» Proprio davanti a loro, al centro dello stretto, era comparsa all'improvviso un'isola. Piper era sicura che prima non ci fosse. Era una piccola massa di terra collinosa, ricoperta di foreste e circondata da spiagge bianche. Non era granché in confronto a Gibilterra, ma davanti all'isola, a un centinaio di metri dalla costa, dalle onde spuntavano due colonne di marmo, alte come gli alberi del Largo Due. In mezzo alle colonne, gigantesche parole d'argento scintillavano sott'acqua. Non plus ultra. Forse erano un'illusione, o forse erano impresse nella sabbia. «Ragazzi, torno indietro», domandò Leo, nervoso. «Oppure nessuno rispose». Forse perché, come Piper, avevano notato la figura sulla spiaggia. Mentre la nave si avvicinava alle colonne d'Ercole, la figlia di Afrodite vide un uomo con i capelli scuri e una veste purpurea, a braccia concerte, che stava fissando intensamente la nave come se li stesse aspettando. Piper non riuscì a distinguere molti altri dettagli da quella distanza, ma a giudicare dalla postura, il tizio non era contento. Frank trasse un respiro profondo. «Potrebbe essere... Ercole», concluse Jason, «il semidio più potente di tutti i tempi». Largo Due, ormai si trovava a poche centinaia di metri dalle colonne d'Ercole. «Mi serve una risposta», insistette Leo. «Posso tornare indietro, oppure possiamo decollare. Gli stabilizzatori funzionano, ma devo sapere subito...» «Proseguiamo», intervenne Annabeth. «Credo che sorvegli lo stretto. Se è davvero Ercole, o Eracle, come lo chiamavano gli antichi greci, fuggire per mare operaria non ci servirà a niente. Ci vorrà parlare». Piper resistette alla tentazione di usare la lingua ammaliatrice. Avrebbe voluto gridare a Leo, «Decolla, portaci via di qui!» Purtroppo, aveva la sensazione che Annabeth avesse ragione. Se volevano entrare nel Mediterraneo, non potevano evitare quell'incontro. «Ma Ercole starà dalla nostra?» chiese Speranzosa. «Voglio dire, è uno di noi, giusto?» Jason sbuffò. Era figlio di Zeus, ma morendo è diventato un dio. «Non si può mai essere sicuri con gli dèi!» Poi ripensò all'incontro che avevano avuto con Bacco in Kansas, un altro dio che prima era un semitio. «Non si era dimostrato esattamente disponibile». «Fantastico!» mormorò Jason. «Sette semidei contro Ercole!» «E un satiro!» aggiunse Hedge. «Lo batteremo!» «Ho un'idea migliore!» intervenne Annabeth. «Mandiamo una delegazione a riva. Un piccolo gruppo, uno o due di noi al massimo, per cercare di parlare con lui!» «Vado io», disse Jason. «Lui è figlio di Zeus. Io sono figlio di Giove. Forse con me sarà amichevole». «O forse ti odia», suggeri Percy. «I fratellastri non sempre vanno d'accordo». Jason si accigliò. «Grazie, mister Ottimismo!» «Vale la pena tentare!» «Almeno Jason ed Ercole hanno qualcosa in comune», approvò Annabeth. «E ci serve il nostro diplomatico migliore!» «Qualcuno che sia bravo con le parole!» Tutti gli occhi si girarono verso Piper. La figlia di Afrodite si sforzò di non gridare e di non buttarsi in mare. Aveva un pessimo presentimento. Ma se Jason andava a riva, lei voleva accompagnarlo. Forse quel dio così potente si sarebbe dimostrato disponibile. Potevano avere un po' di fortuna una volta tanto, no? «E va bene», disse. «Datemi solo un attimo per cambiarmi». Quando Leo ebbe ancorato a largo due tra le colonne, Jason evocò il vento per farsi trasportare a riva insieme a Piper. L'uomo con la veste purpurea li aspettava. Piper aveva sentito tonnellate di storie su Ercole. Aveva visto diversi film e cartoni animati insulsi sul suo conto. Prima di allora, se le fosse capitato di pensare a lui, avrebbe alzato gli occhi al cielo e immaginato uno stupido capellone sulla trentina, con il torace enorme e un'orrenda barba da hippie, una pelle di leone sulla testa e una grande clava tipo cavernicolo. Una specie di brutto, insomma. Uno che puzzava, faceva rutti, si grattava un sacco e parlava per lo più bagrugniti. Non si sarebbe mai aspettata quello. Ercole aveva i piedi nudi, ricoperti di sabbia bianca. La veste lo faceva sembrare un sacerdote, anche se Piper non ricordava quali si vestissero di porpora di preciso. I cardinali? I vescovi? E il color porpora? Significava che era la versione romana invece di quella greca? La barba era incolta ma chic, come la portavano Tristan McLean e i suoi amici attori, della serie E. È un paio di giorni che non mi rado, ma sono comunque strepitoso. Aveva un bel corpo, ma non troppo robusto. I capelli colorebano, erano tagliati molto corti, in stile romano. Gli occhi erano azzurri e splendidi come quelli di Jason, ma aveva la pelle color rame, come se avesse trascorso tutta la vita su un lettino bronzante. La cosa più sorprendente? Sembrava avere una ventina d'anni, non di più. Era di una bellezza rude, ma per niente da cavernicolo. A dire il vero, una clava ce l'aveva. Era distesa sulla sabbia accanto a lui, ma sembrava più una mazza da baseball gigante. Un cilindro di mogano levigato, lungo un metro e mezzo, con un'impugnatura di pelle decorata in bronzo. Edge ne sarebbe stato invidioso. Jason e Piper atterrarono sulla battigia. Si avvicinarono lentamente, stando attenti a non fare mosse minacciose. Ercole li osservò senza alcuna emozione particolare, come se fossero una specie di uccelli marini che non aveva mai notato prima. «Salve!» esordì Piper. Era sempre un buon inizio. «Come va?» domandò Ercole. Aveva una voce profonda ma disinvolta, molto moderna. Avrebbe potuto salutarli così, nello spogliatoio del liceo. «Tutto bene», rispose Piper, confusa. «Beh, a dire il vero, non proprio. Comunque, io sono Piper. Lui è Jason. Noi... dove è la pelle di leone?» la interruppe Jason. Piper avrebbe voluto dargli una gomitata, ma Ercole sembrò più divertito che scioccato. «Ci sono trenta gradi», rispose. «Perché dovrei portare una pelle di leone? Tu metti la pelliccia in spiaggia?» «Beh, in effetti...» Jason era deluso. «È che nell'immagini hai sempre una pelle di leone?» Ercole fissò il cielo con aria accusatoria, come se volesse venire a parole con Zeus. «Non credete a tutto quello che sentite dire su di me. Essere famoso non è divertente, come forse immaginate.» «Non dirlo a me», ribatte Piper, sospirando. Ercole puntò i suoi splendidi occhi azzurri in quelli della ragazza. «Sei famosa?» «Mio padre. Lavora nel cinema.» Ercole ringhiò. «Non parlarmi di cinema. Sant'inumi non ne fanno una giusta! Avete mai visto un film su di me dove io sembro come sono?» Piper dovette ammettere che non aveva tutti i torti. «Sono sorpresa che tu sia così giovane.» «Ah, essere immortale aiuta.» «Comunque sì, non ero molto vecchio quando sono morto. Non per gli standard moderni. Ho fatto tante cose durante i miei anni da eroe. Troppe, in effetti.» Ercole spostò lo sguardo su Jason. «Sei figlio di Zeus, vero?» «Sì, Giove.» Rispose Jason. «Non c'è molta differenza.» Borbottò il dio. «Papà è irritante sotto entrambe le forme. Quanto a me, mi chiamavo Eracle. Poi sono arrivati i romani e mi hanno ribattezzato Ercole. Non sono cambiato poi molto, anche se negli ultimi tempi ho mal di testa lancinanti soltanto a pensarci.» Il lato sinistro del suo viso si contrasse. Le sue vesti scintillarono, diventando per un attimo bianche e poi di nuovo porpora. «In ogni modo, se sei figlio di Giove dovresti capire.» Continuò Ercole. «La pressione è tanta. Niente è mai abbastanza. Alla fine, uno può anche scoppiare.» Si girò verso Piper. Fu come se migliaia di formiche le brulicassero sulla schiena. C'era un misto di tristezza e tenebre nello sguardo di Ercole, da darle l'impressione che non fosse del tutto equilibrato, né tantomeno innocuo. «Quanto a te, mia cara, stai attenta», proseguì il Dio. «I figli di Zeus possono essere... beh, lasciamo stare.» Piper non sapeva cosa volesse dire. All'improvviso le venne voglia di allontanarsi il più possibile da lui, ma si sforzò di mantenere un'espressione calma e educata. «Allora, divino Ercole, noi siamo qui per un'impresa eroica. Vorremmo il permesso di entrare nel Mediterraneo.» Ercole scrollò le spalle. «È il motivo per cui sono qui.» Dopo la mia morte, papà mi ha nominato portiere dell'Olimpo. E io ho pensato «fantastico! Di Corvea Palazzo! Feste di continuo!» Però non aveva accennato al fatto che avrei sorvegliato le porte delle antiche terre, rimanendo bloccato su questa stupida isola per il resto dell'eternità. «Un vero spasso!» Indicò le colonne, che si innalzavano dalla spuma dei frangenti. «Stupide colonne! Alcuni sostengono che sia stato io a creare lo stretto di Gibilterra, separando le montagne. Altri dicono che le montagne sono le colonne. È solo un mucchio di sterco di augia. Le colonne sono colonne.» «Giusto», commentò Piper. «Ovviamente! Allora, possiamo attraversare lo stretto?» Il dio si grattò la barba elegante. «Beh, devo darvi i soliti avvertimenti su quanto siano pericolose le antiche terre. Non tutti i semi-dèi riescono a sopravvivere nel mare Nostrum. E per questo motivo, devo assegnarvi un'impresa da portare a termine, per dimostrare il vostro valore e bla bla bla. «Sinceramente non ne faccio un affare di stato. Di solito affido ai semi-dèi un compito semplice, tipo fare shopping, cantare una canzone buffa, cose così. Dopo tutte le fatiche che ho dovuto compiere per il mio malvagio cugino Euristeo, beh, non voglio essere io il cattivo.» «Grazie tante!» Commentò Jason. «Figurati, nessun problema.» Ercole sembrava rilassato e tranquillo, eppure continuava a innervosire Piper. Quello scintillio cupo nello sguardo ne ricordava la carbonella immersa nel cherosene, pronta a infiammarsi da un momento all'altro. «Allora, qual è la vostra missione?» domandò Ercole. «I giganti», rispose Jason. «Siamo diretti in Grecia per impedire che risvegli Nogea.» «I giganti», bofonchiò il dio. «Li odio. Quando ero un semi-dio... Ah, non importa.» «Allora, quale dio vi ha spinto a farlo? Papà? Atena? O forse Afrodite?» Innercò un sopracciglio e guardò Piper. «Visto come sei carina, immagino che sia tua madre.» Piper avrebbe dovuto pensare più alla svelta, ma Ercole l'aveva turbata. Troppo tardi si rese conto che la conversazione si era trasformata in un campo minato. «Ci ha mandati Hera», rivelò Jason. «Ci ha radunati per Hera?» All'improvviso, l'espressione di Ercole divenne come le scogliere di Gibraltar. Una lastra di roccia dura e inscalfibile. «La detestiamo anche noi», si affrettò a dire Piper. «Oh dèi, perché non le era venuto in mente prima? La moglie di Zeus ed Ercole erano da sempre nemici mortali. Non volevamo aiutarla, ma lei non ci ha dato molte alternative. Ed eccovi qui», concluse Ercole senza un briciolo di cordialità. «Mi dispiace, miei cari. Non mi interessa quanto sia importante la vostra missione. Io non faccio niente per soddisfare il volere di Hera, mai.» Jason era sconcertato. Credevo che avessi fatto pace con lei quando sei diventato un dio. «Come ho già detto, non dovete credere a tutto quello che sentite dire», replicò Ercole. «Se volete entrare nel Mediterraneo, mi sa che dovrò affidarvi una missione davvero difficile.» «Ma noi siamo come fratelli», protestò Jason. «Era incasinato anche la mia vita. Capisco...» «Non capisci niente!» lo interruppe Ercole in tono gelido. «La mia prima moglie e i miei otto figli. Morti. La mia vita sprecata in imprese ridicole. La mia seconda moglie è morta suicida. Dopo essere stata convinta con l'inganno ad avvelenarmi, lasciandomi morire in agonia. E la mia ricompensa? Sono diventato un dio minore. Immortale. Così non posso dimenticare il dolore. Bloccato qui come un custode, un portiere. Un maggiordomo degli dèi dell'Olimpo. No, tu non capisci. L'unico dio che mi capisce un po' è Dioniso. E almeno lui ha inventato qualcosa di utile. Io non ho niente da mostrare, tranne brutti adattamenti cinematografici della mia vita. Piper passò alla lingua ammaliatrice. «È una cosa tristissima, Ercole. Ma ti prego, sii buono con noi. Non siamo cattive persone.» Ercole esitò. Poi strinse la mandibola e scosse la testa. «Dall'altra parte dell'isola, su quelle colline, troverete un fiume. In mezzo al fiume vive il vecchio dio Akelou.» Ercole rimase in attesa, come se quella notizia avesse dovuto farli correre via terrorizzati. «E?» domandò Jason. «Voglio che gli speziate l'altro corno e me lo portiate.» proseguì Ercole. «L'altro suo corno? Che cosa...» «Usate l'immaginazione!» rispose brusco il dio. «Ecco, questo dovrebbe aiutarvi.» pronunciò la parola aiutarvi. «Come se avesse voluto dire... danneggiarvi.» Da sotto le vesti tirò fuori un libretto e lo lanciò Piper, che la ferrò a fatica. Sulla copertina patinata c'era un fotomontaggio di templi greci e mostri sorridenti. Il minotauro alzava i pollici in segno di approvazione. Si intitolava «La guida di Ercole al mare Nostrum.» «Portatemi quel corno prima del tramonto!» riprese Ercole. «Voi due soli, senza contattare i vostri amici.» «La vostra nave rimarrà dov'è. Se ci riuscirete, potrete entrare nel Mediterraneo.» «E se non ci riusciamo?» domandò Piper, certa che la risposta non le sarebbe piaciuta. «Beh, Achilou vi ucciderà, ovviamente», rispose Ercole. «E io spezzerò in due la vostra nave a mani nude e condannerò a una fine prematura i vostri amici.» «Jason spostò il peso del corpo da un piede all'altro.» «Non potremmo semplicemente cantare una canzone divertente?» «Ossi in voi partirei subito», ribatté Ercole. «Prima del tramonto!» «Atrimenti, i vostri amici moriranno!» «Ì no Haw Antoninhi Dawson, i vostri amici sentirei e viv幹ò». «Ì no Haw!» «Ì no Haw!»